Arriva un nuovo stop per la nuova funivia Socrepes di Cortina. Dopo le incongruenze rilevate dalla provincia in serie di valutazioni di impatto ambientale, anche la Commissione Via Regionale ha momentaneamente bloccato il progetto dell'impianto di risalita, presentato da Pool Engineering e Quick No Problem Parking. Pesanti i rilievi evidenziati. La nuova funivia, che rientra all'interno del piano degli interventi correlati ai giochi olimpici invernali del 2026 ed è ritenuta essenziale non solo in ottica olimpica ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'eredità futura, insisterebbe su un'area geologicamente instabile, segnata da frane nell'area dei prati di Mortisa. Il tutto è scritto nero su bianco nella relazione di 25 pagine elaborata dal Comitato Tecnico Regionale dopo la seduta del 7 agosto scorso, nella quale viene richiesta una lunga serie di integrazioni. La Regione evidenzia che la relazione geologica e geotecnica allegata al progetto dell'impianto, che prevede una portata media di 2000 persone all'ora, presenta carenze di indagini. Ma non solo. Il tracciato, si legge nella relazione, ricade interamente in area P2, ovvero a moderato rischio geologico, con alcuni elementi della cabinovia prossimi alle aree P3, che sono quelle ad elevato rischio. Problematica in particolare è la situazione relativa alla stazione intermedia, che dovrebbe essere costruita ridosso dell'abitato di Mortisa, un'area contraddistinta da sfessurazioni e cedimenti del manto stradale, come appurato nel sopralluogo dei tecnici dello scorso primo agosto. Uno stop che allunga ulteriormente i tempi di realizzazione di un impianto strategico, al quale è legato nuovo parcheggio da 747 posti auto a rotazione, che dovrebbe decongestionare dal traffico veicolare il centro di Cortina. La cosa mi preoccupa, perché comunque l'impianto di arrocamento dal centro a Socrepes è per noi opera primaria, sia dal punto di vista olimpico, perché senza questa non potremmo ospitare sicuramente la disciplina dello sci, perché non avremo modo di portare su gli atleti, ma soprattutto di portare su tutta la parte degli spettatori, ma soprattutto poi per quella che è l'eredità olimpica, perché effettivamente su quell'impianto di risalita è stata anche disegnata una nuova viabilità, è una nuova viabilità sia scistica che turistica di Cortina e quindi per quanto mi riguarda, diciamo, rimane ferma la posizione dell'amministrazione sulla assoluta importanza dell'impianto, pur rispettando tutte quelle che sono le normative e la sicurezza delle persone, che è prima di tutto, però ecco io auspico che ci possa essere un confronto e si riesca a arrivare a un giusto compromesso tra gli organi preposti per trovare una soluzione che permetta la costruzione dell'impianto.